Musica Oggi conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti in onore del santo più amato dagli agrigentini. Tolgo il disturbo, così Musumeci commenta la scelta di ritirare la candidatura per il secondo mandato da Presidente della Regione. La galla contestato a Palermo, il neosindaco paga il prezzo di aver incassato il sostegno di Dell'Utre e Cuffaro condannati per mafia. Martina Patti accusata dell'omicidio della figlia Elena del Pozzo resta in carcere. Crollo del Palazzo Liberty al viale nella vittoria d'Agrigento. Chiusura delle indagini è possibile, rinvio a giudizio per 5 persone, lavori abusivi e maldestri. Il libro di Andrea Cirino presentato al Tao Book. Domani 22 giugno appuntamento alle 18 all'hotel della Valle con Invecchiari in buona salute. Cosa ci insegnano i centenari? Ben trovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Fede e tradizione, religione e paganesimo. Tutto si fonda nella festa per eccellenza degli agrigentini, quella a San Caloggio, il santo nero, il santo dei miracoli. Una festa di popolo, un atto di amore, quello degli agrigentini nei confronti del santo che salvò la città dalla peste. Un omaggio, una devozione che non conosce limiti ed età. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2022. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentata stamani la festa di San Caloggio, presso lo stesso santuario, che si svolgerà nella nostra città dal 1 al 10 luglio 2022. Presenti Don Gerlando Montana Lampo, al momento facendo funzione di rettore della Chiesa. Nicola Di Francesco, nella qualità di priore. Salvatore Moscato, segretario dell'Associazione Portatori di San Caloggio. La festa ritorna dopo il fermo dovuto alla pandemia, ma con molte precauzioni da osservare. Per evitare ulteriori contagi, una trattante non si potrà salire sulla statua a baciarla. Numerose anche le manifestazioni collaterali a Colledo e la festa, come la giornata dedicata alle famiglie, quella per la vita, la sagra del grano. Di fatto poco o quasi nulla. L'unico accento a cui dobbiamo prestare attenzione è la salita sul santo. Quindi il livello devozionale e personale da esprimere in altri modi, ma di certo non salendo sul santo, per prudenza, per rispetto alle persone che portano il santo, per rispetto a tutte le altre persone che ci possono essere. Non è poco pensabile il mettere la mascherina da parte di tutti, ma è un momento di fragilità, è un momento in cui stiamo riprendendo la vita normale, ma ancora con la presenza, ahimè, del Covid. Tutto il resto resta invariato. Le processioni, i vari momenti, le manifestazioni, il santuario aperto per esprimere le proprie devozioni e i propri momenti di fede e di religiosità. Per il resto, che il buon Dio e San Galogero, per intercessione di San Galogero, possano aiutarci. Da giovedì si parte con la benedizione del pane, all'epoca fa lanciato un appello affinché venga distribuito a chi ha realmente bisogno, non solamente nei dieci giochi di festeggiamenti. E' l'altro accendo a cui volevamo puntare. Ormai gli agrigentini siamo abituati a non sprecare il pane. In un momento storico, ben preciso, che è questo, con tutte le difficoltà che le famiglie hanno di poter anche mettere il pane sulle tavole. Abbiamo tanti modi per dire il nostro grazie al santo, offrendoli agli ammalati, ai sofferenti, alle menze, alle caritas e ai parrocchiali, portandoli noi stessi di persona a qualche famiglia bisognosa. Tante sono le possibilità. Noi saremo qui per la benedizione a cominciare da giovedì prossimo. E poi i buoni possono essere consegnati in qualunque momento, o al santuario o in qualsiasi altra caritas parrocchiale. L'appello è semplicemente il buon senso degli agrigentini, che è pure tanto. Attualmente nelle nostre famiglie o è già qualcuno è stato affetto dal virus, o è addirittura qualche altro in fase di riprese e di convalescenza. Sì, è l'unico appello che facciamo, è l'appello alla prudenza. Non vediamolo come un divieto, non vediamolo come qualcosa da evitare per forza di cose, o non pensiamo nemmeno che sarà una statua e una processione blindata, ma semplicemente proviamo a vivere con la serenità che ci contraddistingue questa festa. E per quanto riguarda i voti e le promesse che le famiglie possono avere, quelle del santo, ci sono svariati modi per poterli esprimere. Uno tra questi è la presenza dei sacerdoti e del direttivo della compraternita e dell'associazione dei portatori, che accoglieranno, qualora si volesse portare, i cosiddetti abitini dei bambini e verranno posizionati sulla vara in prossimità del santo. Quindi non lo vediamo come un divieto, ma vediamolo semplicemente come un fatto di buonsenso, di prudenza e proviamo a essere con la luce del Signore addosso, sereni, e vivere questo momento di grazia nel miglior modo possibile. Io volevo... Genitori, salvaguardate la salute dei vostri bimbi, perché è una categoria a rischio. Non essendo vaccinate, i bambini sono soggetti e quindi genitori, state molto ma molto attenti. Non c'è bisogno di fare accostare bambini, abbracciare la statua. Basta che, come si usa a fare, si mette in alto il bambino, si segna della croce e via. Quindi speriamo che questo appello venga accolto e che sia la porta buona per poter iniziare già al meglio i festeggiamenti di San Gavoggio. Allora, come ha detto Don Gerlando, ci siamo esposti, quindi l'unica particolarità di quest'anno sono di vieto di salire sulla statua. Ci rivolgiamo al buon senso degli agrigendini, che dopo due anni ritorna alla festa, con solo questo particolare. Poi del resto la festa verrà svolta in maniera totale, uguale come gli altri anni. Ci sono tante iniziative collaterali, se magari le vogliamo ringare qualcuna. Sì, iniziamo venerdì giorno 1 con Vennera Villa, che si svolgerà in piazza stazione dalle ore 19.30. Durante la prima settimana avremo anche quest'anno una novità, che è l'infiorata che verrà fatta con l'immagine di San Gavoggio davanti alle scale della chiesa, che durerà quattro giorni per poi smontarle sabato per permettere a Sandro di poter uscire la domenica. Toglierò il disturbo, non ho nulla da dire adesso, incontrerò la stampa nei prossimi giorni, lo afferma il Presidente della Regione, Nello Musumeci. L'attuale governatore fa così sapere di rinunciare alla sua ricandidatura a Presidente in vista delle regionali del prossimo autunno. Vediamo. Come un fulmine al Cielo Sereno è arrivato l'annuncio del Presidente della Regione, Nello Musumeci, della sua non ricandidatura. Musumeci ha dichiarato che tra poco toglierò il disturbo e ci sarà un successore. La Regione siciliana ha fatto molti interventi anche nel settore della cultura e per quelli che non sono finiti ci sarà il mio successore perché io toglierò il disturbo. Questo quanto affermato dal Presidente Musumeci nel suo passaggio del suo intervento all'inaugurazione della mostra Agata dell'icona cristiana al mito contemporaneo. I tesori dei musei regionali a Palazzo dell'Università Catania e il governatore Musumeci non ha voluto parlare delle sue dichiarazioni con i giornalisti, limitandosi ad aggiungere a Lanza che non ho nulla da dire adesso anticipando che incontrerò la stampa nei prossimi giorni. Ma vediamo quali sono in retroscena. La mattinata del Presidente della Regione Musumeci non inizia esattamente nel modo migliore. Sul Corriere della Sera il coordinatore azzurro Micichè di Forza Italia cannoneggia sul quartiere generale violando la tregua richiesta sul tavolo romano di demandare tutto all'esito dei posti barottaggi. Il combinato disposto dello sciodificare Piccone a Tormina, le voci che arrivano dalla capitale, su un valco che inizia ad aprirsi fra i colonnelli di Fratelli d'Italia sulla possibilità di non impiccarsi sul suo nome, fanno il resto. I bene informati raccontano di un Presidente che avrebbe annunciato ai suoi assessori più fedeli la sua intenzione di ritirare la candidatura alle regionali, un'ipotesi che i suoi avrebbero cercato in tutti i modi di allontanare tentando di dissuaderlo. Infine la dichiarazione pubblica rilasciata ai cronisti all'inaugurazione della mostra Agata che si è svolta a Catania. Immediatamente battuta dall'agenzia, il giallo c'è tutto e riguarda le possibili dimissioni del Presidente che rimanda ogni spiegazione ai prossimi giorni quando organizzerà una conferenza stampa a proposito per chiarire i contorni della vicenda. Ci sarà un mio successore, questo ha dichiarato il Presidente Musumeci. Ha vinto il candidato benedetto dai condannati per mafia Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri, il nuovo sindaco di Palermo Roberto Lagalla continua a far discutere per il suo successo a primo turno con il 48% delle preferenze e il sostegno di tutto il centrodestra. Stamattina Lagalla ha deposto una corona di fiori davanti un monumento di Palermo dedicato ai caduti nella lotta alla mafia. Il primo cittadino dopo qualche minuto di silenzio e raccoglimento rivolgendosi ai giornalisti ha detto è un atto doveroso che spero serva a chiudere definitivamente un capitolo che ha avvelenato dolorosamente la campagna elettorale. Prima della cerimonia sul posto sono arrivati alcuni giovani del movimento Our Voice che hanno esposto un'ostricione con la scritta sindaco Lagalla. Prima di commentare le vittime di mafia si distacchi dagli uomini condannati per i fatti di mafia e mentre il sindaco si allontanava dalla piazza i giovani gli hanno gridato contro fuori la mafia dallo Stato. Vediamo. Contestiamo il fatto che Lagalla il nuovo sindaco di Palermo purtroppo ha preso le distanze troppo tardi da una certa politica clientelare e da uomini che sono stati condannati in via definitiva per reati di mafia come Totò Cuffare e Marcello Dell'Utri rispettivamente per favoreggiamento e concorso esterno in associazione mafiosa. È troppo facile caro sindaco prendere le distanze dopo che uno è stato dopo che lei ha vinto le elezioni o pochi giorni prima della votazione. Lei doveva farlo mesi fa perché Cuffare ha iniziato a muoversi nella politica palermitana per l'amministrativa 2020 già da febbraio e Dell'Utri già nel periodo di marzo-aprile quindi lei da lì siccome sapeva che Bazzicava e centrodestra questi personaggi venivano qua, erano qua a Palermo per sistemare i problemi intestini e gestire la cosa pubblica del centrodestra, lì lei doveva dire quello che ieri sera è stato riportato da Report, che se loro porteranno voti mafiosi io mi distacco. Farlo dopo le elezioni, farlo dopo che lei ha vinto è troppo semplice e noi siamo qua davanti a un monumento dei caduti di mafia per dire che purtroppo sono stati legittimati uomini di potere che sono stati condannati in via definitiva anche se le pene sono state scontate per reati di mafia e attenzione non è una questione giuridica, Dell'Utri e Cuffaro hanno tutto il diritto di dire anche la loro ma non di gestire la cosa pubblica, per questione morale, qua in Sicilia, qua a Palermo una terra martoriata purtroppo dalla mafia, dal crimine organizzato e dalle collusioni dello Stato con la mafia che ha reso questa terra bellissima, famosa in tutto il mondo per un problema come la mafia e non per le sue bellezze, non è possibile per la questione morale che continuino a essere legittimati persone che anche 30 anni fa gestivano il potere e che sono state condannate in via definitiva questione morale, oltre al fatto, e l'ultima cosa, che non dobbiamo dimenticare che 48 ore prima tra le 48 e le 24 ore prima del voto di queste nuove amministrative 2020 sono stati arrestati due uomini, due candidati al Consiglio regionale del centro-destra per scambio elettorale politico mafioso e quando uno da giornalista, da attivista va a leggere le statistiche, i voti, il seggio che hanno preso, le votazioni come sono andate a finire questi personaggi hanno riscosso voti, noi, lui, il sindaco, doveva essere più deciso e fermo fin dall'inizio della sua campagna elettorale, no ai voti provenienti da uomini in odor di mafia il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania Daniela Monaco crea ha convalidato l'arresto in carcere di Martina Patti, la donna di 23 anni che lunedì 13 giugno a Mascaluccia ha ucciso la figlia Elena di quasi 5 anni tra le 15 pagine del provvedimento il giudice ha scritto Martina Patti, nonostante il tentativo di lasciare credere di aver agito senza piena consapevolezza è una donna lucida e calcolatrice e se non arrestata potrebbe darsi alla fuga e la piccola Elena, vittima di una morte violenta particolarmente cruente, anche lente è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell'omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all'agire perché uccidere un figlio in tenere età è quindi indifeso oltre a integrare un gravissimo delitto è un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale riprovevole e disprezzabile, per nulla accettabile in alcun contesto è indice di un istinto criminale spiccato di elevato grado di pericolosità la donna non ha manifestato segni di pentimento ha inscenato il rapimento con estrema lucidità e non ha manifestato segni di ravvedimento o pentimento sono tutti elementi che denotano una particolare spregiudicatezza insensibilità e assoluta mancanza di resipiscenza e Martina Patti così ha risposto ad alcune domande del giudice che l'ha interrogata ho portato Elena in quel campo e le ho fatto del male, non ricordo altro ho avuto una cosa lunga tipo un coltello, non ricordo dove l'ho preso, non so perché ce l'avevo quando l'ho colpita non ricordo bene perché ero girata e non volevo guardare non ricordo cosa sia passato nella mia mente quando ho colpito mia figlia anzi posso dire che non mi è passato nessun pensiero come se in quel momento fossi una persona diversa non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo forse era ferma, non ho un ricordo molto chiaro non ricordo di aver sotterrato la bambina ma sicuramente sono stata io secondo i dati IMSS è in Sicilia quasi il 20% dei redditi di cittadinanza concessi in Italia con 153 beneficiari su mille sopra vi è solo la campagna con il 23% sul totale nazionale poi i lavoratori in nero in Sicilia superano i 250.000 con un tasso di anomalia del 18,7% a fronte di ciò sono danneggiate le tantissime attività produttive dei servizi e le imprese commerciali regolarmente iscritte nelle camere di commercio che subiscono la concorrenza sleale di coloro che assumono in nero perché non essendo sottoposti a contributi assicurativi a quelli fiscali a quelli previdenziali consentono alle loro imprese di beneficiare di un costo del lavoro molto più basso le telecamere di TVA reparto di oncologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca vediamo Dottore Sant'Angelo, qual è la situazione del reparto oncologico di Sciacca? Allora, intanto diciamo che l'unità operativa di oncologia di Sciacca è una operativa semplice dipartimentale abbiamo ottenuto questa promozione circa due anni fa grazie anche all'attuale commissario della sanità quindi dello stato del governo diciamo regionale questa unità operativa è stata riconosciuta semplice dipartimentale e siamo tre medici io, il collega Vaccaro il collega Quattrochi che sono venuti a supporto di questa unità operativa grazie anche all'impegno della nostra direzione strategica e in particolare del direttore generale Zappia che abbiamo sempre trovato diciamo come un importante interlocutore e l'unità operativa nostra copre un ampio bacino d'utenza quindi copriamo buona parte della provincia di Agrigento anche fuori provincia quindi abbiamo anche alcuni di Mazzara di Mazzala comunque diciamo ha un ampio bacino d'utenza devo dire che è molto importante che ultimamente abbiamo attivato dei testi fondamentali per i chemioterapici quindi per predire la tossicità al trattamento in collaborazione con il nostro laboratorio di analisi col dottore Gallerano quindi facciamo dei testi di farmacogenomica e siamo gli unici in provincia a farlo all'interno dell'ospedale senza appoggiarci a strutture esterne la nostra operativa è dotata anche di un ecografo abbiamo aperto gli ambulatori di senologia con richiesta impegnativa anche per gli esenti ticket siamo in grado di garantire tutti i trattamenti ai nostri malati in linea con quelli che sono gli standard nazionali quindi nonostante le difficoltà che abbiamo avuto negli anni siamo riusciti sempre ad uscircele diciamo bene abbiamo buoni rapporti di collaborazione anche con altre strutture sia regionali che extra regionale per quanto riguarda gli studi sulle ricerche della malattia dottore ci sono novità? allora diciamo che l'oncologia in questi anni ha subito dei notevoli cambiamenti quindi dei notevoli avanzamenti e oggi non si parla solo di chemioterapia si parlano anche di terapie mirate come le target therapy si parla di immunoterapia e la nostra provincia ringraziando anche con tutte le mille difficoltà la nostra provincia riesce a garantire tutti i trattamenti sia nel campo chemioterapico sia nel campo immunoterapico sia nel campo della target therapy abbiamo anche un buon rapporto di collaborazione con il nostro territorio dove è presente lo specialista ambulatoriale con cui noi integriamo e cerchiamo di alleviare quanto più possibile le sofferenze speriamo anche che possano essere attivati presso la nostra struttura gli ambulatori anche all'interno del nostro ospedale l'ospis è anche un ambulatorio di cure palliative che attualmente ci appoggiamo all'esterno con i servizi territoriali oltre che all'ospis di agrigento sono qua dal primo dicembre del 2021 dopo aver finito la specializzazione a Palermo mi trovo davvero bene si è creato un clima di collaborazione tra di noi medici con gli infermieri e tutto lo staff davvero che ci porta una serenità e una facilità nel lavoro che per noi è fondamentale soprattutto considerando le patologie che trattiamo sono davvero contento e spero di rimanere qua quanto più tempo possibile cosa possiamo consigliare al paziente che si rivolge a voi? nel trattamento della prima visita come lo seguite? ovviamente tutto dipende dalla patologia che il paziente ha perché noi trattiamo un po' tutto il campo delle patologie oncologiche è ovviamente in prima visita l'approccio dipende soprattutto dalle condizioni generali del paziente noi comunque qua abbiamo la possibilità sia di effettuare esami diagnostici in regime di day hospital in breve tempo sia ci appoggiamo anche a strutture esterne che ci consentono appunto di avere un quadro chiaro della situazione in tempi molto brevi per poter iniziare subito i trattamenti e le cure del caso naturalmente il medico deve portare un sorriso anche al paziente assolutamente sì questo è sempre fondamentale la parte empatica io lavoro qua dal primo di aprile la mia è stata una scelta assolutamente consapevole è quella di rimanere in Sicilia perché oggi ovviamente è sempre più facile magari cercare di lavorare al nord dove le possibilità lavorative sono maggiori però è importante un supporto per il nostro popolo per il nostro territorio quindi la mia scelta è stata quella consapevole di rimanere qua come diceva il mio collega l'attività lavorativa nostra è molto intensa però c'è anche un'ottima collaborazione tra di noi quindi si lavora bene è chiaro che per ritornare alla sua domanda la parte anche dell'approccio nei confronti del paziente è un punto fondamentale perché il paziente viene qua chiaramente a fondo delle paure lui è la sua famiglia e quindi noi dobbiamo essere sempre pronti anche per un supporto psicologico che al giorno d'oggi è fondamentale soprattutto nel nostro ambito da ottobre 2021 quando con una interrogazione parlamentare aveva evidenziato le gravi carenze di organico le cose non sono certo cambiate e forse sono ancora peggiorate non si possono sottacere i gravissimi disagi che subiscono i pazienti anche durante le emergenze da un lato ambulanze del 118 senza medici soccorritori a bordo e dall'altro lunghe attese ai pronti soccorso a causa di notevoli carenze di organico è la dichiarazione dell'onorevole Giuseppe Laccoto che annuncia una nuova interrogazione sulle insufficienze organiche nei presidi sanitari dei Nebrodi e sulle ambulanze la particolare conformazione geografica della provincia di Messina con molti centri montani piuttosto lontani dagli ospedali dovrebbe indurre a provvedimenti urgenti per garantire soccorsi efficienti sono troppe le ambulanze senza medici a bordo ed è ormai evidente a tutti che bisogna studiare rimedi anche sotto forma di incentivi economici per garantire la presenza di soccorritori e il problema come abbiamo evidenziato in passato riguarda anche il pronto soccorso dell'ospedale di Patti, Milazzo, Barcellona, Pozzo di Gotto e Sant'Agata, Militello dove si registrano gravi carenze di organico molto spesso, prosegue l'onorevole Laccoto c'è un solo medico di turno e i pazienti che attendono anche fino a 8 ore dopo la diagnosi rischiano di essere dirottati in altri presidi a causa della carenza di posti o per la mancata funzionalità dei reparti è una situazione insostenibile che mortifica l'intero territorio tirrenico e nebroideo a discapito dei pazienti e in generale della tutela del diritto della salute Invecchiare in buona salute cosa ci insegnano i centenari questo è il titolo di un Alexio Magistrali che Calogero Caruso, professore merito dell'Università di Palermo terrà all'Hotel della Valle ad Agrigento domani 22 giugno alle 18 L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Alzheimer dalla società Dante Alighieri e dall'Empire International è previsto il contributo di Nino Bellomo prossimo centenario che reciterà monologhi e poesie di Pirambello 18 settembre 2019 al Viale della Vittoria ad Agrigento crollava il cornicione del palazzo Liberty che si affiaccia su Piazza Cavour la procura di Agrigento fa notificare l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei responsabili dell'impresa del proprietario di uno degli immobili del palazzo e di circa due tecnici per gli inquirenti le cause sono da debitare a dei lavori abusivi e maldestri c'è il servizio a provocare il crollo di Piazza Cavour dove la caduta di un cornicione ha fatto precipitare il 18 settembre del 2019 il ponteggio che era stato allestito sulla palazzina Liberty del Viale della Vittoria ad Agrigento sarebbero stati dei lavori abusivi eseguiti fra il 2007 e il 2008 e un maldestro taglio dello stesso cornicione oltre dieci anni più tardi la procura di Agrigento tira le somme dell'inchiesta il pubblico ministero Antonella Pandolfi sulla base di una consulenza tecnica che avrebbe fatto luce sulle cause del crollo ha fatto notificare cinque avvisi di conclusione delle indagini atto che prelude la richiesta di rinvio a giudizio gli indagati dopo che è stata esclusa la responsabilità di 26 persone condomini e amministratore sono Giuseppe Nicotra 42 anni di Favara titolare della ditta esecutrice dei lavori di ripristino dei prospetti Giuseppe Bellia 45 anni direttore degli stessi lavori per conto del condominio Vincenzo Sinatra 86 anni proprietario dell'immobile ritenuto committente dei lavori abusivi Tito Cece 75 anni progettista e direttore tecnico degli stessi lavori e Cosimo Nicotra 45 anni direttore tecnico della ditta che ha eseguito i lavori di ripristino del prospetto con l'avviso di conclusione delle indagini i difensori avranno 20 giorni di tempo per chiedere un interrogatorio dei propri assistiti produrre memoria o sollecitare atti di indagine il passo successivo del PM potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio alla decisione della procura di tirare le somme dell'indagine si è arrivati in seguito al deposito della consulenza dell'ingegnere Luigi Palizzolo i lavori di costruzione dei solai di calpestio del piano quarto sottotetto risalenti agli anni 2007-2008 sono stati realizzati abusivamente a scritto e senza valutare in alcun modo il disturbo arrecato al sistema di coronamento dell'edificio a causa del taglio della muratura per l'inserimento dei dormienti in acciaio e per l'appoggio stesso dei solai pertanto il proprietario e committente dei lavori di Vincenzo Sinatra l'impresa esecutrice che non è stato possibile individuare il tecnico, l'architetto Tito Cece che successivamente ha predisposto gli elaborati grafici e il calcolo di tali solai hanno agito con negligenza imprudenza e imperizia innescando una situazione di stabilità del sistema di coronamento dell'edificio a contribuire a provocare il crollo facendo rischiare una strage evitata dal fatto che i calcinacci si sono schiantati a terra di notte quando non c'era nessuno e costringendo alla chiusura della strada tagliando in due la città per un bel po' di tempo anche una leggerezza commessa 12 anni dopo il cornicione infatti sarebbe stato tagliato senza verificare e questa è l'ipotesi dell'accusa se il palazzo potesse reggere senza problemi per questi lavori che precedono di poche ore il disastro il consulente ha puntato l'indice sul direttore dei lavori e sull'impresa che peraltro avrebbero sottovalutato due crolli di minore portata avvenuti prima l'associazione Il Cerchio chiede all'amministrazione comunale di Agrigento maggiore attenzione alle attività culturali che da anni organizza in memoria delle premio Nobel Luigi Pirandello Atturo Cantella professore Barone ecco lei vuole dire la sua inerente all'attività sulla figura di Pirandello ecco il sindaco ha detto che si si ricorda poco la figura di Pirandello ma lei ci tiene a precisare che voi insomma al parco davanti la casa avete sede davanti la casa di Pirandello avete negli anni sempre ricordato la figura di Luigi Pirandello sì con tanti attori e operatori sia che purtroppo per l'età o per le malattie sono scomparsi penso solo e non bianco davanti a quella telecamera alla grande figura di Mariuccia Linder o alla grande figura di Montalbano e poi quelli che sono rimasti e che sono giovani e meno giovani quest'anno ricorda anche il compleanno del decano chiamiamolo degli attori agrigentini che ha dato lustro e che ha partecipato attivamente ogni 28 giugno di pomeriggio veniva e è venuto sempre a mettere con i fiori che compravamo insieme e che abbiamo comprato insieme ogni anno davanti il portone davanti il cancello della casa di Pirandello e oltre anche alla rosa pietra quindi non è che noi critichiamo assolutamente quanto detto dal sindaco perché il sindaco ha ragione è il primo anno anzi il secondo per la precisione che il comune di Agrigento si fa vivo nelle manifestazioni nell'organizzare e celebrare la nascita di Luigi Pirandello quindi ha ragione qualche amministrazione prima ometteva o dimenticava ed è assurdo dimenticare tra l'altro noi in parco letterario la titolarità è del comune quindi è stato sempre presente non solo il 28 giugno ma il 365 giorni su 365 dalla fiera del libro di Torino alle mostre di Milano e di tante altre parti d'Italia ed Europa e ha portato sempre avanti il parco letterario diciamo le iniziative e le idee e le progettualità del comune di Agrigento e quindi ora c'è solo da cercare di fare i conti diciamo in termini pratici di tutte le azioni e diciamo tutto quello che abbiamo anticipato nelle somme che sono ora abbastanza e che il comune i dirigenti devono ormai mettersi al lavoro per cercare di saldare tutto ciò che l'endo e gestore purtroppo è diciamo ad ambiente e quindi deve ricevere questi soldi perché deve rinvestire perché un no profit non è che in cassa per fare altre cose delle monellerie diciamo nel senso viaggi no il no profit deve reinvestire nella stessa qualità dei lavori che sono quelli del turismo culturale e quindi rifare in modo di portare avanti l'azienda parco letterario che poi è una holding di aziende dove i giovani devono trovare lavoro e il sindaco questo a poco a poco lo sta macinando lo sta apprendendo lo sta lo sta cominciando a lavorare ci vogliono mesi e anni perché lui si è insediato l'anno scorso e quindi ha cominciato a partire dall'utilizzo del marchio del logo aggrigendo città teatro noi dobbiamo trasformare la città in città teatro con il centro storico a cui lui è particolarmente legato e non perché non vuole vedere le altre realtà come la gualle dei tembri il mare assolutamente però particolarmente legato all'animazione del centro storico che è l'obiettivo del parco letterario adesso c'è la pubblicità a tra poco vi aspetto a Tormina nella giornata conclusiva della dodicesima edizione di Taobook è stato presentato il romanzo dell'agrigentino Andrea Cirino quasi papa assieme all'autore Salvatore Pezzino e Don Giuseppe Pontillo vediamo come già preannunciato qualche giorno fa nel corso di una conferenza samba al Palazzo dei Filpini ad agrigento Andrea Cirino partecipa a Taobook con il suo libro quasi papa per riflettere sul tema della verità a Palazzo dei Duchi di Santo Stefano di Taormina nella giornata conclusiva della dodicesima edizione di Taobook è stato infatti presentato davanti a un pubblico qualificato il romanzo di Andrea Cirino Salvatore Pezzino e Don Giuseppe Pontillo insieme all'autore hanno ripercorso l'itinerario sentimentale del protagonista del romanzo che ha seguito la sua vocazione con estrema coerenza dalla giovine età fino al termine dei suoi giorni quando sfiora il soglio di San Pietro le riflessioni del libro di Cirino si sono ingrociate con il tema del festival scelto per questa edizione cioè la verità Cirino e i suoi accompagnatori hanno sottolineato il rapporto tra la vocazione religiosa e la ricerca della verità anche tra i dubbi e le tentazioni che hanno messo a dura prova la tenuta del protagonista denominato Andrea rispetto al suo disegno ma al suo destino il cardinale che rischia di diventare papa se lo costituisce non lo subisce presenti all'evento anche il sindaco di Agrigento Miciche il commissario di Taoarte Bernardo Campo per me la verità come diceva il mio concittadino Pirantello non esiste perché ognuno di noi ha una sua verità la verità non è oggettiva ma è soggettiva quindi l'abbiamo appunto dentro e quindi la verità è qualcosa che non esiste il protagonista del mio libro ha una verità una sua verità e la sua verità è la fede il percorso che lo porta verso Dio e quindi questo viaggio questo viaggio nel destino lo porta ad avere una sua verità e quindi la sua verità è stare con Dio e stare vicino all'umanità la verità è tutto la verità è quello che noi cerchiamo di fare vedere ma spesso non è quella la verità reale ma è quella che noi interpretiamo mi trovo qui al Tao Book quest'anno è il tema principale della verità ho visto che avete spaziato a 360 gradi su tutte le scienze su tutti gli argomenti e adesso qui sono qui anche a supportare un autore grigiantino che presenta il libro quasi Papa anche qui c'è un tema di verità e non però la cosa fondamentale è che anche a Grigento ha la sua pentice qui in questo evento così importante proprio in previsione della candidatura di Grigento a Capitale Italiano della Cultura 2025 noi abbiamo addirittura una strada che è indiettata proprio la via degli scrittori come diceva lei Pirandello Sciascia Camilleri e altri anche in precedenza quindi noi siamo in effetti una terra di cultura di letteratura sono rusingato comunque di essere presente qui e dormire mi ero emozionato inaugurata a Catania la mostra su Agata la patrona della città etnea vediamo grazie a tutti Dipinti, ceramiche, custoditi nei musei regionali e civici, sculture e fotografie di artisti contemporanei, raffiguranti, Santa Agata e la festa che celebra il culto della patrona del capoluogo etneo. Sono una ventina le opere esposte nella mostra denominata Agata, dall'icona cristiana al mito contemporaneo, i tesori dei musei regionali a Palazzo dell'Università, inaugurata dal presidente della regione siciliana nell'Omusumeci, nelle sale del Museo dei Sapori delle Mirabilia Siciliane, al Palazzo Centrale dell'Università di Catania. Grazie a tutti. La vara si fa intanto col coinvolgimento delle istituzioni di cui il comune è regista e con tutti coloro che praticamente dal punto di vista tecnico e storico possono essere di aiuto a una festa che riprende dopo due anni di sosta. È chiaro che i tempi sono molto stretti, ci acconteremo di una bella vara, ma gettiamo le basi già per una vara di livello superiore per il prossimo anno. L'attesa c'è tanta, ma c'è anche un problema strutturale da affrontare. Lei prima delle dimissioni diceva che bisogna subito lavorare per garantire la sicurezza di questa macchina. Come? Quello sta già alla base. Abbiamo già attivato praticamente quello che serve per poter collegarci e realizzare tutto quello che riguarda la manutenzione della parte meccanica, perché la sicurezza sta alla base. Quindi a breve ci sarà questo sopralluogo per poter attivare la ditta che deve mettere in sicurezza la vara. Aperture serali con musiche e degustazioni nelle chiese Italo-Greco nella zona ionica di Messina. Vediamo. Un risultato straordinario per noi che lottiamo da anni. Nel febbraio del 2020, proprio in questa sala, veniva presentato il coordinamento per la tutela e la valorizzazione della chiesa Normanna di Mili. Poco prima delle chiusure della pandemia, proprio qualche settimana prima. E in questi due anni siamo riusciti a sensibilizzare le istituzioni e a far sì che questa chiesa potesse essere riaverta in sicurezza, come oggi effettivamente possiamo fare. Una chiesa che oggi si inserisce in un circuito nel contesto di un'iniziativa che coinvolge anche altre realtà presenti nel territorio. Bisogna andare a mettere in rete queste chiese, queste testimonianze così importanti della cultura, della storia, di un certo periodo, della nostra storia e della spiritualità Italo-Greca del nostro territorio. E questo siamo riusciti a farlo anche in maniera concreta. Se ne è parlato tanto nella nostra realtà, anche diversi anni fa, di mettere in rete queste chiese, di realizzare insieme delle iniziative, di valorizzarle insieme. Ecco, siamo riusciti a farlo probabilmente per la prima volta in rete, in contemporanea queste chiese verranno aperte. Molte di queste sono fruibili su richiesta. Il 21 giugno noi abbiamo stimolato le realtà del territorio perché vengano aperte tutte e sette queste testimonianze, ma la stessa cosa avverrà il 21 di luglio, il 21 di agosto e il 21 di settembre. E a questo avveneremo, a luglio, agosto e settembre, delle degustazioni di alimenti tipici dell'alimentazione monastica. Il regno di Sicilia era il più ricco che c'era in quel momento nel Mediterraneo e il contributo dei monasteri Italo-Greci è stato decisivo. Per noi metterli in rete significa concretamente costruire un circuito che parte dalle associazioni, che parte dai comuni, che parte dalla gente che vive in quei territori, ama quelle realtà e le vuole vedere valorizzate. Per un turismo destagionalizzato, un turismo culturale, un turismo interessato, non alle grandi città ma alle piccole realtà, ai piccoli gioielli, ma anche per la gente del luogo, per i siciliani che finalmente possono visitarli e conoscerli. Lei non è siciliana, viene da un'altra realtà ed è la testimonianza, la sua presenza qui, di cosa si può fare lavorando insieme? Sì, l'associazione che rappresento ha sede a Grotta Ferrata, che è l'ultimo monastero italo-greco esistente, abitato da monaci. Ha voluto fondare una sezione a Messina proprio per valorizzare la realtà italo-grega, la realtà basiliana che c'è nella nostra Sicilia e soprattutto nella provincia di Messina. E io sono felice di rappresentare questa associazione, di collaborare con gli enti locali per la valorizzazione e messa in rete di tutti questi monasteri. Noi come Prologo Messina Sud, che ci occupiamo di promuovere la parte sud della città di Messina, sentiamo questa responsabilità adesso dalla riapertura della Chiesa di Santo Medellino di attivarci per rendere costante la riapertura della Chiesa e con attività attorno alla Chiesa di Normanna dei Mili. È possibile se ci mettiamo in rete, se ci mettiamo in rete insieme ad altre realtà, come sta avvenendo all'interno di questa iniziativa, le notti testate nelle Chiese di Italo-Greche, che è la continuità di un percorso nato con le prime aperture delle Chiese di Italo-Greche del 21 maggio, che hanno riscosso un importante successo di pubblico. Infatti siamo riusciti a raggiungere un target di pubblico che solitamente noi riusciamo a raggiungere. La promozione in rete, insieme, di queste Chiese, quindi facendo immaginare un itinerario delle Chiese di Italo-Greche, riusciamo a invitare e rendere attrattivo questo territorio per i turisti e i visitatori dall'esterno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del Telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto. Grazie.